Siamo all'entrata dell'area di sosta di Montefalco provincia di Perugia, area di sosta comunale che se non ricordo male dovrebbe costare 5 euro 24 ore, spero che si veda sul display perché c'è il sole, sono presenti dei bagni, ammesso che uno ne abbia di bisogno, l'area può contenere una ventina di camper, è tutta pavimentata, in piano, qui c'è lo scarico con l'acqua vediamo se funziona, funziona la superficie dicevo è tutta pavimentata, non c'è problema nel caso dovesse piovere come oggi che è una giornata un po' così è praticamente a tre minuti a piedi dall'ingresso della città, dal borgo che consiglio a tutti di visitare perché è molto bello e ci sono degli otto i miei ristoranti e ci sono degli otto i miei ristoranti grazie a tutti anche grazie 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 Grazie.